Si tratta di casi sicuramente circoscritti. Io vado contro tendenza. Cava è una città sicura, tradizionalmente tranquilla e forse è diventata appetibile proprio perché è tranquilla e sicura. Però noi non abbassiamo la guardia. Partirà a giorni il progetto Cava città sicura che vedrà impegnata la nostra polizia locale con orari anche diversi, quindi notturni. Tutti i weekend si farà un orario fino alle 24 la sera e l'orario ordinario poi slitterà dalle 21.15 alle 22. Il prolungamento degli orari della polizia locale interesserà anche le frazioni. È sulle frazioni comunque il tema che sembra ancora più importante della sicurezza? Nonostante le carenze di personale, tu sai benissimo che noi alcuni mesi fa abbiamo indetto anche un bando di concorso per rafforzare il personale della polizia locale. Saranno assunte, terminato il concorso, 14 unità della polizia locale che garantirà di coprire anche le frazioni perché il territorio di Cava ha ben 17 frazioni e circa 18 località. Ti lascio immaginare le difficoltà che abbiamo con un personale esiguo, con un personale che sta andando in quescenza per coprire l'intero territorio comunale. Però sicuramente non trascureremo le frazioni dove si sono registrati, ahimè più che al centro, questi episodi di cui tu parlavi prima.